Romina Power abbandona i social. Rivelazione shock da parte della cantante americana, che ha dichiarato di allontanarsi per un po' dal mondo del web. Romina Power abbandonerà per un po' di tempo i social network, la notizia scoc, che è subito arrivata all'orecchio dei fan, ha sconvolto davvero tutti, un vero e proprio malcontento generale, che ha preoccupato i tanti follower, che la seguono assolutamente tutti i giorni su Instagram, in realtà dietro la decisione ci sarebbe un motivo ben preciso. Addio social per Romina Power Secondo quanto riportato dalle ultime notizie dei quotidiani, che si occupano di cronaca rosa, Romina Power avrebbe deciso di allontanarsi dai social. Lei, sempre molto attiva e tanto seguita dal popolo del web avrebbe preso la decisione sconvolgente, che ha lasciato tutti senza parole e anche un po' di perplessità. Nell'ultimo periodo l'ex moglie di Albano Carrisi sarebbe stata al centro del triangolo amoroso con la rivale di sempre, Loredana Lecciso, la showgirl Salentina, che ad oggi è l'attuale compagna del cantante pugliese, avrebbe dichiarato in più interviste che sarebbe stanca delle uscite fuori luogo e soprattutto dei post troppi ambigui da parte di Romina Power. Il post incriminato, che avrebbe fatto saltare i nervi alla Lecciso, sarebbe una foto, che ritrae Albano e Romina ai mercatini di Natale in Germania con un cuore con scritto ti amo, ma non solo, Romina in più occasioni avrebbe dichiarato di amare ancora il suo ex marito. Ma cosa è accaduto davvero per far prendere tale decisione alla Power? Romina non ha assolutamente intenzione di emulare il suo ex marito, che ha deciso di abbannadare definitivamente i social. Per lei altro che silenzio stampa, sembrerebbe che questa settimana si troverebbe in America con sua cugina in stanca di tutto il clamore mediatico, che ultimamente gli sta girando intorno, avrebbe voglia di ritrovare la pace interiore e un po' di serenità lontano dal mondo dei gossip. Romina infatti, andrebbe a fare un ritiro spirituale per una settimana. I tanti fan, che ogni giorno la seguono a suandiliche su Instagram, dovranno solo aspettare sette giorni per ritrovare la loro beniamina. Ad oggi Albano e Romina sono tornati una vera e propria coppia, ma soltanto artistica, per ora non si parla di nessun ritorno di fiamma. Chissà che il ritiro di Romina Power non la porti rigenerata dal ritiro spirituale per tornare più ad verità, che mai, alla conquista di Albano? Un ritorno, che in tanti ormai aspettano da fin troppo tempo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS